Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prima di concludere, un appello rivolto ai nostri governanti affinché le critiche scaturite dopo i due decreti di allerta medio emanati dalla nostra municipalità non creino imbarazzo nell'attenzionare in futuro reali stati di maltempo. Una maggiore attenzione ed informazione delle notizie della protezione civile aiuterà senz'altro a non far venire meno la precauzione da prendere nel momento di reale necessità. Un buon lavoro a tutti. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani.